Importante successo per la Braese, che cala la manita e l'obiettivo è sempre più vicino ma non si molla ancora niente. Assolutamente no, dobbiamo rimanere concentrati perché il campionato ha dimostrato che basta sbagliare uno o due partite e gli altri rientrano subito in corso. Contento della reazione della mia squadra dopo il brutto passo falso di sabato scorso e contento per Mr. Ripeto che ha guidato veramente bene i ragazzi della panchina, abbiamo fatto una partita quasi perfetta, quindi veramente un bel sabato. Speriamo anche domenica, io sono genuano, quindi spero anche nel Genoa che ci diano gioie per completare il weekend. Alla Juve domani manca Ronaldo, alla Braese oggi è tornato un grande Rossi. Un grande Davide Rossi, quindi si è anche arrabbiato perché non lo cambiavamo. Infatti dico ma di solito si arrabbia quando lo cambiamo troppo presto o quando non gioca, invece a sto giro si è arrabbiato perché non lo cambiavamo. Ma va bene, ci sta tutto, quindi siamo contenti, godiamoci questo momento. Grazie mille, Ministro del Bocca al Lupo. Grazie a voi.